salve amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare voglio ricordarti di iscriverti al canale di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti ma adesso basta parlare cominciamo un certo victor martinez racconta che un suo amico mentre faceva un'escursione di notte in un bosco con la sua bicicletta racconta di aver udito qualcosa di strano in quel tratto di strada l'uomo all'inizio non fa caso a questa cosa ma poi rivedendo le immagini sente quella che sembra essere una risata questo è il filmato dal suono udito sembrerebbe davvero una risata ma potrebbe essere anche un animale notturno voi cosa ne pensate ragazzi il prossimo filmato è stato registrato in un campo di notte il proprietario di questo campo nota subito qualcosa di strano vicino alcuni alberi l'uomo si avvicina con molta cautela e una volta lì nota questa strana figura dall'aspetto femminile con i capelli lunghi e una lunga veste bianca quello che succede dopo ha dell'incredibile questo è ciò che è stato filmato il video seguente mostra questo uomo a terra dopo un incidente d'auto l'uomo è in fin di vita e sembra che per lui non ci siano molte speranze uno dei passanti che ha ripreso l'incidente riprende anche l'uomo stessa a terra allo stesso tempo si accorge di qualcosa di strano che si trova proprio lì vicino all'uomo che ormai è sul punto di morire questo è ciò che è stato filmato mentre l'uomo sta per esalare l'ultimo respiro una strana figura appare proprio lì vicino a lui che sia di buono di cattivo è difficile capirlo comunque fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questo filmato il video seguente mostra questi due genitori mentre scherzano con la loro figlia ad un certo punto la ragazza che sta riprendendo i due genitori cattura con la telecamera l'apparizione di uno spirito in carne e ossa questo è ciò che è stato filmato lo spirito si materializza in fondo al corridoio fermandosi per pochi secondi in quel punto per poi scomparire non so se questo filmato sia vero ma se fosse vero quella famiglia farebbe meglio a cambiare casa durante una passeggiata in mezzo a una foresta alcuni turisti notano una strana creatura su una roccia uno di loro tira fuori la telecamera e comincia a riprendere quello strano s questo è ciò che è stato filmato il prossimo video mostra quest'uomo mentre entra in nel suo garage col suo cane ad un certo punto la telecamera inquadra questa strana creatura che prima sembra avere delle sembianze di un animale dopodiché sembra assumere forma umana siamo arrivati al termine ragazzi il video finisce qui fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati noi come al solito ci rivediamo alla prossima ciao 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 ciao